Siamo qui in diretta dal Kennedy Stadium, Soccer Cup, Wapago, Baku, formazioni che fanno l'ingresso in campo e che ora si prestano a schegarsi lì al centro del Monte Poso a salutare proprio di tutti Siamo qui in diretta dal C5, Wapago in completino bianco, Baku in completino arancione Devevo chiamarvi in qualche campo, due capitani nel centro del campo La prima incontro di Alessandro, passare il nostro Sotto già tipo alle camposella inizia il match, un saluto bene c'è ragazzi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!